Alvia la sesta edizione dei presepi itineranti, come si svolge quest'anno l'iniziativa? È un'iniziativa che è veramente bella perché coinvolge tutte le scuole di ogni ordine e grado della città di Mazzara, associazioni, movimenti, realtà, tantissime realtà che hanno voluto aderire facendo un presepe e esponendolo nella nostra cattedrale, nel Museo Giusti di Sicilia, in Piazza della Repubblica, nella Chiesa di San Giuseppe. L'anno scorso ci siamo fermati per il Covid, quest'anno siamo ritornati ed è un segno di speranza. Il tema che abbiamo dato a tutte le scuole, le realtà e le associazioni da discernere per fare il presepe era il tema del nostro piano pastorale diocesano, il deserto fiorirà, affinché la speranza ritorni nelle nostre comunità, nelle realtà, nelle nostre famiglie, nella quotidianità. Tutti i giorni saranno aperti, possono essere visitati fino al 7 di gennaio, dalle ore 9.30 a mezzogiorno e dalle 16.30 alle 18.00. Guardando alla Natività e guardando a Gesù Bambino, che rinasce nella nostra storia personale e comunitaria, sicuramente il nostro cuore si riempie di speranza perché ognuno di noi possa costruire bene per il futuro.